Bella raga sono ieri e benvenuti a questo nuovo video, sono qua su Clash of Clans Ragazzi oggi, oggi prima, adesso sono tipo le due qualcosa, le due e mezza E raga, oggi è lunedì, che brutto lunedì oggi, madonna E io ero giusto prima il giovedì Quindi raga, prima ho fatto un video con Tommy Pro quando siamo entrato da fuori dalla scuola In macchina, ragazzi andate a vedere che davvero, dura poco, tipo due minuti, però davvero figo 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 E ragazzi oggi, attaccheremo nelle war Sapete cosa sono le war, no ve lo spiego io, sono delle guerre tra clan E chi fa il tuo corone vince, ora sto imparrendo, però adesso io devo fare due attacchi e dovrò vincere, spero di vincere Spero Comunque, attestiamo ancora un pochino, per esempio che levo la cosa Ok, facciamo le 10 E il resto arcieri, ok raga, ok Opla Così, meno male, si riparo le troppe Quindi ragazzi, io direi sempre di continuare un po' il nostro ciclo delle cose Quindi facciamoci Ok, facciamoci questa miniera a 4 Estrattore, un al 3 Non lo voglio Facciamoci un al 3, ok raga E raga, sono pronta per la war Ovviamente attacchiamo il numero 10 Facciamo una breve ricognizione Io vi sto per vedere un po' come è messo Ok, e voi direte Sì, è scorso, Gary lo batte in 2 secondi Metti giù due giganti, traceri Butti giù Beh, due giganti, traceri, no Però con 10 giganti Tipo 30 arcieri lo butti giù Però raga, il problema è questo qua Eh sì Perché appunto raga Il castello del clan Verrete che adesso è pieno 10 su 10 Vuol dire che gli hanno donato O le valchiri, gli stregoni, le mongolfiere Quello è veramente un problema Comunque noi attacchiamo Ok raga Ok, 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 ok Ok raga Adesso io direi di mettere Un barbarozzo qua, eh Eccola qua la valchiriozza Eccola qua Ok, facciamo così Raga, ora facciamo così, eh Ok Fate fuori la Raga, a mente Raga, solo la valchira mi interessa Solo la valchira Fatela fuori No, non ci credo Davvero, non la fanno fuori No, mi prego, mi prego Se l'avamo azzata abbiamo vinto Mi prego Ah, siete in 3.000 Non potete perdere Cazzo, cazzo Sì Ok raga Ok Raga, adesso il bordello E raga Prova di perderti, zio Dai cazzo Per la war Per il clan Per Jambu Dai raga Dai cazzo In 3.000 siete Porca puzzola Dai raga Io ci credo Voi ci credete Sì cazzo Sì Abbiamo vinto Abbiamo vinto Raga Per oltre Stasera 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 Gioco all'Italia E mi ritorno Non so se vinciamo Però io Io tifo nella mia nazione Quindi raga Ovviamente perdiamo Però finita Comunque Dobbiamo fare Della gol Per vincere Non ci proviamo Tanto Cosa c'è Mio da perdere Un mondiale Ma chi se ne frega Vabbè Per buffarla Per l'ultimo Mi spiace Per lui Dai Una campagnina Non ci fermerà Ah no C'è anche l'accampamento Vabbè Raga Mamma mia E beh Battimela giù Per i clave Le portiamo a casa 100% Promotti Ok 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 Olè Eccole qua 14 Ok raga Mi ha dato anche un bel po' Di soldi Un bel consiglio Abbiamo dato Adesso raga Vediamo come sono messi Gli accampamenti Sì Devano ancora un po' Precedere Ma raga Adesso Passiamo su Nell'altro villaggio Ale Eccola qua Oh I giganti sbloccati Stupidi Stupidi Buffo Piccoli Stupidi giganti Fatto Tre Stelle Olè Ok Ok Cos'è Di soldi Abbiamo pochi Vabbè 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 Facciamoci questa qua E raga Adesso è il momento Di farci un villaggio Un po' decente Ma vabbè È il momento Di farci un villaggio Un po' Madonna Non riesco a cliccare Con questo Tutto tasto Ok Facciamo Ok Raffaccio 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 Rimuovi tu Non lo spazzo Subito cosa Rimuovi tu Olè Ok raga Mettiamo Una salta Così Un cosa così Raga La faccio veloce Perché Ovviamente non sarà Quello Definitivo Dove è il più canone Quello Cocco Di Ma Ok Facciamo così Ah Così Gira E mettimelo Lì Gira E Aspetta Che spazzo Poi avanti Questa qua Ok Raga Facciamo così Ok Facciamo Raga Facciamo sì Dai Vi vediamo Poi viene E così Vabbè Raga Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Eh Così Ci mettiamo Una bella Trappolina In mezzo Oh Raga Sto venendo Una meraviglia Insomma Aspetta Qua dentro Ci mettiamo Che ci mettiamo Dentro Che ci mettiamo Che ci mettiamo Mettiamo Il cannoncino Eh Mastire Non la Campina Non l'accampamento Non voglio L'accampamento Vai via Scusa L'accampamento Il cannoncino Il cannolo Cannolo Facciamo così Facciamo così L'ultimo muro Ce lo mettiamo Così Ma sì Dai Facciamolo Facciamolo Raga Beh Insomma Stavo meglio Eh Vi dico Pensavo meglio Facciamo così Facciamo Oh raga Raga Faccio la tatticona No No Questo qua Giusto Questo qua Era giusto Come prima Questo qua Lo mettiamo Di qua Raga Sì Raga Così Così Spingiamo Via Così Questo qua Così Questo qua Bello Così Sulla punta La casermina Qua Estrattore Qua E miniera Qua Ok raga Villaggio Fatto 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 Dai Ci sta Raga Ci sta Ci sta Ci sta Vai Raga Vediamo Quello Che Dovremmo Attaccare Ora Ok Questo qua Sarà Molto 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 Più Difficile Io Vi Direi Una Cosa Raga Perché Ovviamente Questo qua C'ha Una Valkyrie E Do Arcieri Dentro Quindi Mettiamo Un Barbarino Qua All'atto Dove Nel Dito Qua Mettiamo Un Barbarino Per Atterrirli Fuori Dopo Le Atterriamo Ancora Un Proprio In Chiedo Sgherri Sgherri E Una Mongo Ok 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 Comunque Raga La prossima Buona Faremo In un Prossimo Video Mi Raccomando Vi Ricordo Di Commentare Vi Ringrazio Per La Visione Ricordo Se Commentate Iscrivete Ragazzi Quattagher È Tutto Ragazzi Dimenticate Di Presentare Il Nostro Ultimissimo Arturo Ragazzi Quattagher Ed Arturo È Tutto È Perega Minchia Guardate Il Primo Minchia Mi Deci Per Noto Quella Le Mura Nove La Madonna Vabbè Cos'è Sto Quello Di Pesero Al Sei Trima Partia Minchia Min Che Sberla Sì Ciao Orre È Persa